ciao a tutti oggi vediamo questi bellissimi contafili sono lentini di alta qualità con la struttura in metallo e la lente in vetro in particolare vediamo che si possono anche personalizzare questo modello ad esempio è un 6x con lente doppia e in questo caso noi possiamo personalizzare l'astuccio perché la struttura del contafili è fatta proprio per poter alloggiare la lente quando si chiude ecco vediamo che in questo caso l'astuccio è stato personalizzato con il nome della ditta una volta chiuso nell'astuccio possiamo anche utilizzare una scatolina bianca anche questa personalizzabile questo è un altro tipo di personalizzazione perché qui abbiamo una lente singola e quindi è stato fatta una serigrafia anche sulla struttura proprio in metallo oltre ad una stampa a caldo sull'astuccio così vediamo che sia l'astuccio che la lente possono essere personalizzate per ricordare sempre il brand della vostra azienda anche in questo caso possiamo confezionare il tutto con una scatolina bianca anche quella personalizzabile in questo caso invece vediamo lo stesso contafili che però non è stato serigrafato sulla parte metallica ma l'azienda ha ritenuto necessario solo personalizzare il proprio astuccio in questo caso è stata fatta una tampografia che è un'altra tecnica sempre di stampa ecco vediamo molto brillante in questo caso invece sempre con tampografia è stata persona è stato personalizzato l'astuccio di un contafili più piccolo questo è un 8 per 8 ingrandimenti con doppia lente quindi con la struttura forata per alloggiare bene la lente è piccolino ma molto potente sulla base come anche gli altri contafili ha la possibilità di effettuare misure in pollici e in millimetri ecco anche qui possiamo confezionare con la sua scatolina bianca il contafili all'interno dell'astuccio personalizzato può essere un'ottima idea per avere uno strumento utile di alta qualità e con il proprio brand sempre presente sia da regalare ai clienti sia da utilizzare direttamente in azienda se vi interessano contafili con personalizzazione potrete trovare tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al nostro canale youtube elettronica didattica io vi aspetto per i prossimi video ciao a tutti a presto